Tu fai sempre colazione così? Mi piace fare sport. Qualche problema? Mai ho avuto problemi con le donne nude, te lo assicuro questo. Tu sei troppo nuda. Allora, da dove cominciamo? C'è senso? Il nostro accordo, dobbiamo definire le modalità, no? Io faccio il poliziotto, conduco l'indagine, tu fai la giornalista. E se scopri qualcosa grazie alla tua sinestesia, me lo dici. Per il resto, vista la tua assurda idea di non voler fare sesso con me, ognuno ha la sua vita. Ti ho già detto che non mi piace usare la sinestesia. E comunque ho altre doti. Ah, su quella non ho dubbi. Tendevo la testa. Usa quella che vuoi. Basta che porti a casa il risultato. Sei in prova, te lo ricordi? Ma no via... Sano? Sano? Grazie a tutti.